Traditi forse dall'asfalto bagnato dalla pioggia i due giovani a bordo dello scooter che si è scontrato con una panda sul cavalcaferrovia di Viale della Pace a Vicenza intorno alla mezzanotte. Violentissimo lo schianto con i due giovani occupanti dello scooter sbalzati sulla carreggiata e l'auto e la piccola moto finite contro un palo. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, sanitarie del suo M118 e agenti della polizia locale. Vanno i soccorsi per uno dei due giovani, un cittadino filippino di 32 anni morto nonostante i tentativi di rianimazione del medico e degli infermieri. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo il secondo scooterista sotto shock e portata in pronto soccorso anche la conducente della panda.